Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 6 km di coda per un incidente tra BV1 con Planare Firenze Nord e BV1 Variante in direzione di Bologna. Infipili, personale su strada tra Navacchio Visignano e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa, possibili rallentamenti. Uno sguardo alle statali su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri tra Monteriggioni e Siena in direzione di Siena. Voltiamo pagina fino al 3 settembre, il traffico lungo la linea ferroviaria Firenze-Viareggio sarà interrotto tra Pistoia e Monte Catini-Terme per lavori connessi al raddoppio della linea tra Pistoia e Lucca, attivato un servizio sostitutivo con autobus. Muoversi in Toscana Infia è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!